In molte occasioni, in ambito brassicolo, sentiamo parlare di grado plato. Questo termine è spesso collegato all'espressione doppio malto, diffusa principalmente da pubblicità ingannevoli che hanno generato confusione riguardo a questa diceria. E nel video di oggi sono proprio qui per fare chiarezza su questo argomento. Per chi ancora non mi conosce, io sono Giulio Santanni, fondatore e mastro birraio del birrificio La Foresta di Prato, e qui nel mio canale troverete tante curiosità legate al mondo della buona birra. Ma adesso cominciamo, dopo la sigla! Per definizione, i gradi plato, indicati con il simbolo P, sono l'unità di misura della densità di una soluzione. Questo sistema di misurazione fu sviluppato dal chimico tedesco Fritz Plato, vissuto tra il 1858 e il 1938, da cui prende appunto il nome. Precisamente si dice che la densità di una soluzione, misurata in gradi plato, è l'equivalente della densità, misurata in percentuale peso fratto peso, di una soluzione di saccarosio diluita in acqua. In altre parole, dire che un litro di mosto contiene 12 gradi plato, equivale a dire che la densità in questione, cioè gli zuccheri estratti di sciolti nel mosto, sia pari a quella di un litro di soluzione acquosa, contenente il 12% del peso fratto peso di saccarosio. Approssimando il peso specifico dell'acqua a un chilogrammo fratto litro o un grammo fratto il millilitro, e supponendo di essere sul livello del mare alla temperatura di 20 gradi, si può quindi dire che il campione di mosto contiene circa 120 grammi di zuccheri estratti. Come si misura il plato? Lo strumento principale, perlomeno che utilizzo io, è il densimetro. Si tratta di un galleggiante con al suo interno un'asta graduata, il quale, una volta inserito all'interno di un cilindro contenente un campione di mosto a 20 gradi, galleggiando, indica la quantità di zuccheri presenti nel mosto. Nel caso in cui la temperatura del mosto non fosse corretta, è possibile calcolare il margine d'errore semplicemente addizionando il plato mancante se la temperatura è più calda. Nel caso contrario in cui la temperatura del mosto è più fredda, dovremo sottrarre il plato mancante. Un altro strumento impiegato è il rifrattometro, il quale richiede soltanto una goccia di mosto per misurare la densità tramite la rifrazione, osservando la scala graduata come un monocolo. In alternativa ci sono strumenti più tecnologici ma non proprio a buon mercato, come densimetri o i rifrattometri digitali, che attualmente non posso recensirvi perché sono ancora in epoca analogica con il mio amato densimetro. Altre scale oltre al plato. Se avete esperienza con la birra fatta in casa, saprete che quando in birrificio parliamo di plato, nella produzione domestica invece intendiamo OG, Original Gravity e Final Gravity, rispettivamente la quantità di zuccheri presenti prima e dopo la fermentazione del mosto. Un'altra scala di misurazione utilizzata anche se in rari casi per quanto riguarda la birra è la Bricks. Tutte queste tre scale sono convertibili tra loro, ad esempio ad una temperatura di 20 gradi, come potete vedere nell'immagine, un campione di mosto a 12,5 plato, secondo la tabella, corrispondono a 12 Bricks o altrimenti a 1.048,4 Original Gravity. Il doppio malto. Adesso che abbiamo capito la definizione di plato, veniamo al doppio malto. Suppongo che la gran parte di voi abbia immaginato per la prima volta che queste birre contenessero una doppia dose di malti, oppure malti differenti. Fatemelo sapere nei commenti così magari ci facciamo due risate. Bene, dovete sapere che questo termine nasce dall'esigenza tipicamente italiana di inquadrare ogni cosa in una categoria di riferimento. Nel caso della nostra amata bevanda, la suddivisione di categorie nasce da un'esigenza assai negativa, ovvero l'applicazione delle accise. Il legislatore, con la legge 16 agosto 1962 numero 1354, Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra, ha disposto la classificazione delle birre in categorie omogenee in funzione del combinato grado alcolico e grado plato. La denominazione birra analcolica, di cui vi ho già parlato in un altro video, del quale vi riporto qua in alto se ve lo siete perso, è riservata a un prodotto con un grado plato non inferiore a 3 e non superiore ad 8, con un rapporto alcol-volume non superiore all'1,2%. La denominazione birra leggera o birra light è attribuita al prodotto con grado plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5, e con un titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%. Infine, la denominazione birra è riservata a un prodotto con un grado plato superiore a 10,5, e con un titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%. Tale prodotto può essere anche denominato birra speciale se il grado plato non è inferiore a 12,5, e birra doppio malto se il grado plato non è inferiore a 14,5. Perciò doppio malto è la definizione esclusivamente italiana di una birra con un grado alcolico superiore a 3,5% ed un grado plato non inferiore a 14,5. Dunque è un panorama davvero immenso per definire una birra ben precisa. Perciò non provate a chiedere una birra doppio malto all'estero se non volete essere guardati male. Excuse me, can I have a double malt beer, please? Double what? Spero di avervi chiarito al meglio questo argomento molto discusso in ambito birrario e che resta sempre un bel cruccio per noi birrai. E se volete un consiglio su come scoprire la birra perfetta per soddisfare i vostri gusti, mi raccomando date un'occhiata al video che vi riporto qui di fianco sugli stili birrari per imparare a scoprirne di più. Vi aspetto al prossimo video!